Avevano già il biglietto per la Spagna dove probabilmente avrebbero speso i soldi dei Bancomat che avevano già clonato, ben 41 carte magnetiche copiate con lo skimmer, un macchinario che riesce a leggere le bande magnetiche e con il codice segreto trafugato con una micro telecamera collegata ad una telecamera sistemata in un cestino accanto allo sportello preso di mira. E' la tecnica utilizzata in questi ultimi 10 giorni da una banda di tre rumeni, fermati ieri dalla squadra mobile, accusati di clonazione e manomissione di almeno due sportelli Bancomat in via Roma a Padova. Dal sopralluogo nel Bed & Breakfast a Ponte di Brenta dove alloggiavano, gli agenti hanno trovato tutta la strumentazione utile a queste operazioni, le carte già clonate, altre 100 carte pronte per essere modificate. Sì, avevano già piazzato alcuni skimmer proprio per captare i dati sensibili e poi abbiamo trovato dell'altro materiale che è al vaio dove sono ripresi altri sportelli bancari evidentemente già manomessi in passato. Come operavano principalmente di notte inserendo questi skimmer? No assolutamente, anche di mattina tant'è che in centro l'applicazione l'hanno effettuata intorno alle 8 in maniera molto semplice e molto rapida fingendo ovviamente di effettuare un prelievo applicavano sopra delle plafonier appositamente modificate. Gli inquirenti sono riusciti ad arrivare ai rumeni tramite il ritrovamento di una scheda telefonica della quale sono stati esaminati gli ultimi traffici e della quale è stata trovata la scatola della sim nell'appartamento dei tre. Oltre al filmato della telecamera trovato che riprendeva anche le scarpe da tennis dei tre confrontate fatte combaciare con quelle degli arrestati. Grazie al confronto con i dati in possesso della polizia rumena la squadra mobile di Padova ha scoperto infine che uno dei tre aveva precedenti specifici sia in Romania che in Italia. L'indagine si ferma qui? Assolutamente no perché abbiamo moltissimo materiale sequestrato da cui si evince che sono stati fatti ovviamente altre manipolazioni e altri prelevamenti.